Con una delibera di giunta del 17 maggio 2018 l'allora consiglio comunale di Pescara, sindaco Marco Alessandrini, approvò la realizzazione del polo della cultura e della conoscenza nell'area in cui sorge l'attuale caserma dei vigili del fuoco. Per il sindaco in carica Carlo Masci dunque le polemiche di oggi non sono altro che pretesti per elementare il dibattito politico intorno all'ampliamento degli spazi dedicati al polo universitario d'Annunziano in via Lepindaro al posto della caserma dei vigili del fuoco che come da progetto sarà spostata nella zona ovest della città. In questi giorni abbiamo sentito molte polemiche sull'argomento e abbiamo ascoltato l'opposizione che ha alzato le barricate su un'operazione che invece è prevista dal masterplan approvato con delibera numero 46 del 17 maggio 2018 cioè quando al governo di questa città c'era il centro-sinistra e c'era il sindaco Alessandrini. Quella delibera è stata una delibera approvata dal consiglio comunale ovviamente con il voto favoreore dell'allora maggioranza e con l'astenzione dell'opposizione che eravamo noi perché ritenevamo che quel progetto di rideterminazione di Porta Nuova fosse un progetto valido tant'è che avevamo lavorato su quel progetto perché l'opposizione deve proporre anche e quindi lo abbiamo definito con la maggioranza. Cosa prevedeva quel progetto? Proprio quello che noi stiamo portando avanti, quello che l'opposizione definisce il piano Masci non è altro che il piano approvato dall'attuale opposizione e dall'allora maggioranza che prevedeva l'ampliamento dell'università proprio nella caserma dei vigili del fuoco e nella caserma di Cocco cioè due progetti che erano giusti allora e sono giusti oggi così come quel master prevedeva che la caserma dei vigili del fuoco si spostasse nella zona a ovest del rilevato ferroviario cioè proprio nella zona che noi abbiamo individuato e per la quale stiamo portando avanti un'operazione che tiene conto delle esigenze dell'università e anche delle esigenze di una città come Pescara che deve avere una nuova caserma dei vigili del fuoco più efficiente e più performante. Di questo abbiamo parlato con il ministro che ha condiviso perfettamente la nostra idea quindi io ho sentito parlare di prepotenza di arroganza no se c'è una prepotenza e un'arroganza è non fare quello che è stato previsto dal Consiglio Comunale nel 2018 e non da noi e che noi invece portiamo avanti perché siamo coerenti e concreti quindi oggi noi cerchiamo di far crescere l'università attraverso questi progetti concreti che non sono stati approvati da noi ma che noi portiamo avanti convintamente perché eravamo già convinti allora mi dispiace vedere che chi oggi è all'opposizione e che allora era in maggioranza allora ha detto sì a questi progetti anzi li ha portati avanti e oggi dice di no soltanto perché c'è un'altra maggioranza